Buongiorno, oggi per la rubrica Libri Consigliati parliamo di Minimalismo Digitale di Carl Newport che ti consiglio di leggere se come me ti senti un po' soverchiato da questa tecnologia. Sembra paradossale, no? Noi che abbiamo scelto la strada della libertà di vivere e lavorare dovunque, tramite la rete e grazie a questi strumenti informatici, ci troviamo totalmente in balia di esse certe volte. Ed è proprio qui che nasce il mio bisogno di leggere questo libro. Vediamo innanzitutto come l'autore definisce il minimalismo digitale. È una filosofia d'uso della tecnologia, secondo cui l'utente dedica il proprio tempo online a un ridotto numero di attività accuratamente selezionate e ottimizzate per sostenere obiettivi e valori importanti, trascurando felicemente tutto il resto. E a me questo felicemente mi fa impazzire. Ecco, forse ti aspettavi che me ne uscissi con il libro cartaceo, invece è venuto fuori il Kindle. Beh, non nascondo che il libro cartaceo ha tutto il suo fascino. Respirare il profumo di carta è impagabile. Però è chiaro che se ti muovi un pochettino, se leggi tanto il Kindle, ha tanti altri vantaggi che tra l'altro sposano perfettamente la filosofia del nomadismo digitale, quindi essere più sostenibili, consumare meno carta. Il libro si divide in due parti. Nella prima si analizza meglio il concetto di filosofia del minimalismo digitale, quindi se ne capiscono quali sono le problematiche e la sua evoluzione. Perché all'inizio, quando sono usciti i social network, nessuno prevedeva come si sarebbero potuti evolvere. Nessuno prevedeva che avrebbero potuto influenzare così tanto le nostre vite, cambiandoci le abitudini e l'umore. Certo è che quando se ne sono accorti, è una gara a chi riesce a tenerti più attaccato alla sua app. Ora è un peccato che una persona come te, che ha fatto della libertà al suo life motive, sia costretta ad essere incatenata e indirizzata nelle scelte da strumenti studiati a tavolino per modificare le tue decisioni. Nella seconda parte invece Carl ci presenta quali sono le sue idee, dei consigli, delle buone pratiche da utilizzare per poterci riappropriare della nostra decisione, della nostra vita, partendo dall'analisi di tutti gli strumenti che stiamo utilizzando e cercando di capire quali effettivamente migliorano la qualità della nostra vita lavorativa, della nostra vita sociale, eccetera. Io ho ricavate alcune idee abbastanza interessanti che ho applicato da qualche mese e dal mio punto di vista sono efficaci, in particolare su due aspetti. Il primo riguarda la messaggistica. Lavorare da remoto ti espone a delle microinterruzioni di notifiche, di messaggi, eccetera, che disturbano la tua attività lavorativa. Quindi il segreto è dedicare la porzione della giornata appositamente alla conversazione. Una telefonata, ancora meglio una videochiamata, che possono essere anche molto molto più empatiche. C'è una ricercatrice che viene citata sul libro e dice io non sono contrario alla tecnologia, sono favorevole alla comunicazione. Invece il secondo provvedimento è stato quello di spostare le icone delle applicazioni di social network dalla prima schermata del telefono alla seconda. In questo modo non sono loro a richiamarmi con le notifiche, con i loro pallini, eccetera. Ma sono io che scelgo, in certi momenti della giornata, di andare a aprirle, leggere, consultarle, eccetera. Sono io che scelgo quando farlo. Non sono loro che mi richiamano, riassorbono. Bene, quindi se quello che vuoi è capire meglio come funziona questo mondo, avere qualche idea per sfruttare al meglio la tecnologia e qualche spunto di riflessione sul fatto che noi non siamo gli utenti che utilizzano un prodotto, ma siamo i prodotti che vengono venduti ad altre aziende, questo è il libro che dovresti leggere.